Musica Venerdì 30 novembre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione con il nostro TRG mattino Tanta cronaca nelle prime pagine dei quotidiani che andremo a sfogliare con il ritorno su vicende di cronaca dei giorni scorsi con novità per quanto riguarda il fronte sicurezza, l'eco di quanto accaduto nella vicina Valdichiana e la vicenda di cronaca a Monte San Savino con il gommista che ha ucciso un ladro in flagrante nel capannone dove era costretto a dormire dopo decine e decine di furti, insomma un eco che si sente forte anche in Umbria e che accende acceso, ormai un dibattito sul confine, sempre più labile, sempre più impercettibile tra sicurezza e libertà, tra diritti fondamentali della persona. Ci sono novità però anche sul fronte delle strade e dei finanziamenti e proprio su questo andiamo a vedere l'apertura del Corriere dell'Umbria, arrivano 23 milioni per le strade il piano manutenzioni della provincia di Perugia, cantieri per sistemare la Pievaiola e la Pecchiese ma i soldi ancora non bastano. Fa scalpore la notizia che arriva dalla Valnerina, casetta piena di muffa, famiglia terremotata se ne va riconsegno le chiavi, dice Michela, titolare di un'azienda che produce miele a Norcia dalla frazione di Popoli dopo il terremoto è stata costretta a spostarsi col marito e tre figli in una SAE, le casette prefabbricate nella zona industriale B ma in pochi mesi si è riempita di muffa il pavimento marcia ovunque, la resa malzana. Ce ne andiamo, stiamo sistemando il magazzino della nostra azienda, parte del pavimento sostituito è stato rifatto con il vecchio trucciolare già marcio insomma una storia che viene da dire grida vendetta ma ancora cronaca, braccialetto elettronico, siamo in Alto Tevere in questo caso ed è il provvedimento per un marito stalker, imprenditore tifernata, reso la vita impossibile all'ex moglie, pedinandole, perseguitandole ai suoi familiari, ora è ai domiciliari e poi il centro di olivicoltura, stoppata la chiusura a Spoleto con l'intervento del ministro Centinaio mentre tornando a Città di Castello, ancora riflessi dalla morte sul lavoro dei giorni scorsi ASL avvisata, scusate, solo dopo 24 ore a Gubbio, loculi invece troppo alti, problemi al cimitero, nessun fiore e poi richiami dallo sport con Goretti che benedice, è il caso di dire Nesta Nesta come Ilario, addirittura un paragone sicuramente importante Sire alla rivelazione Ravenna, 4 vittorie in 5 gare, sarà il prossimo avversario e invece Gubbio, lo vedremo anche sul nostro sito, Sandriani saluta la città e i tifosi e dice un addio troppo in fretta, non senza quindi un pizzico di polemica nei confronti della società che lo ha liquidato dopo 16 anni La pistola del sindaco è invece il titolo della nazione perché il sindaco Romizzi, il sindaco di Perugia, il decreto sicurezza consente l'arma elettrica ai vigili di Perugia, Romizzi dice stiamo valutando richiamo della vicenda di Città di Castello col bracciale elettronico al marito stalker mentre Umberti, recacciatore colto da malore, lo soccorrono con l'elicottero un arresto in aeroporto coltivava marijuana nella sua Svezia è stato pizzicato a Sant'Egidio e poi Chirurghi uniti contro l'obesità una sinergia tra Foligno e Spoleto, nasce un polo tra i due ospedali mendicanti molesti, le sanzioni più severe dividono i perugini favorevoli e contrari e poi Cantiere Lumaca sul viadotto Genna scatta la protesta, chiudiamo col messaggero, con le infiltrazioni della criminalità organizzata bloccata una ditta sospetta a Perugia, lotta ai capitali mafiosi nell'economia legale un'interdittiva della prefettura di Caserta, ferma i lavori di un'azienda nel Perugino nell'edilizia anche scolastica e nella progettazione e poi il capitolo furti a Narni esasperato scrive non c'è più rame da rubare, il disperato biglietto lasciato fuori al capannone da un imprenditore nella zona industriale di San Liberato dopo l'ennesimo furto guardiamo anche le notizie positive, siamo a Foligno, farà volare il lavoro che cos'è? Il nuovo drone che verrà prodotto dalla Oma Tonti la azienda leader nel settore della componentistica aeronautica e che ha brevettato un nuovo prodotto che sicuramente farà il giro del mondo in tutti i sensi. E poi ecco perché i lampioni sono accesi di giorno dopo le proteste dei giorni scorsi a Perugia mentre la morte di Laura dubbi dai graffi visti dalla sorella, la donna, la giovane ragazza morta a Roma si pensava a un suicidio ma i familiari sospettano ci sia invece la mano di qualcuno e infine Love Film Festival, anteprima invernale con polemica a Perugia mentre per lo sport parla Melchiori alla vigilia della sfida col Pescara che sarà domenica, non vedo l'ora dice l'ex pescarese e poi De Canio invece con la Ternana, caccia del modulo giusto con il Vicenza vuole vincere, Ternana che torna in campo domani tutto questo per le prime pagine ma noi andiamo a sfogliare proprio i titoli di apertura partiamo dal Corriere e in particolare dalla vicenda di Montesanzavino che continua a tenere banco anche nei dibattiti tra l'opinione pubblica Umbra Montesanzavino ha un passo dall'Umbria ma soprattutto una vicenda che tiene col fiato sospeso in tanti perché? Perché si dibatte sul limite tra la tutela del bene privato in questo caso di un'azienda e ovviamente la tutela della vita altrui notte di terrore nel capannone di Freddy il gommista che armato ha sparato al ladro che si era introdotto nel suo capannone dopo che lo stesso Freddy aveva subito decine e decine di furti è esasperato, ha usato l'arma e ha ucciso l'uomo che non era peraltro solo, infatti caccia al complice in fuga il ministro Salvini telefona di nuovo a Freddy Pacini verrò a trovarti, dice stamane l'autopsia sulla salva del 29enne Moldavo ed è paura tra i vicini del commerciante così siamo corsi ai ripari contro i ladri timori tra le aziende e i esercenti del centro della provincia di Arezzo che potrebbe essere anche un centro della nostra Umbra il sindaco Ghinelli che dice una tragedia ma non si può dormire in azienda per difendersi dai furti e la riflessione di Alessandro Giulio il difficile rapporto, dicevamo tra sicurezza e libertà veniamo in Umbria parliamo di strade perché proprio per la sicurezza in questo caso per chi si mette alla guida ci sono nuovi fondi 23 milioni li mette sul piatto la provincia di Perugia che ha presentato il piano di manutenzione ma le risorse ancora non bastano interventi per la Pecchiese la Abretella che unisce l'Alto Tevere con le Marche e la Pievaiola ma per le verifiche previste servono oltre 39 milioni le verifiche su ponti e vie e sulla loro solidità parliamo anche di treno treno all'aeroporto deve chiederlo la Regione lo dice la direttrice di Trenitalia Amelia Italiano la presentazione del nuovo servizio di assistenza di Fontivegge sappiamo come da tempo ci sia la proposta del comitato ultimo treno di una variante ferroviaria che da Leugubino Gualdese arrivi proprio fino all'aeroporto e l'assessore Chianella risponde pronti a rimodulare il progetto però ora c'è anche il nuovo progetto di Collestrada e vedremo come andrà a finire tutto questo ovviamente per il dibattito su la viabilità ma c'è il caso che arriva da Norce che fa davvero scalpore circondati dalla muffa andiamo via la storia di un'imprenditrice terremotata madre di tre figli il pavimento della casetta è marcio da mesi e pensare che la casetta doveva essere nuova di zecca guardate le immagini parlano più delle nostre parole e poi ex coifer torniamo a Perugia una settimana di sciopero la multinazionale Balche 2 che ha acquisito l'azienda metalmeccanica perugina annuncia fusioni con Milano a rischio 80 lavoratori siamo alla cronaca giudiziaria processo per la morte di un carabiniere rinviata a giudizio per l'omicidio stradale il 53enne che nel luglio scorso anno investì con l'auto l'ha puntato camera il tutto avvenuto nella zona di Corciano e poi arriva la passerella pedonale per collegare l'ospedale a San Sisto disco verde del comune all'indagine di mercato che precede l'affidamento dei lavori partiremo ancora di ponti tra poco anche con altri quotidiani intanto regione Ateneo scontro per un primario nuova rifiuta del rettore Moriconi per il mancato concorso a gastroenterologia l'assessore Barberini contrattacca a Morelli doveva succedere Fiorucci accusato e poi assolto l'esponente di Palazzo Donini respinge le accuse di illegittimità e infine l'alternanza scuola-lavoro vista dai ragazzi premiati i documentari degli studenti dell'ultimo anno e delle superiori nel concorso della Camera di Commercio di Perugia una giuria esaminata di elaborati dei ragazzi nota di merito all'istituto Salvatorelli Moneta di Marsciano questo l'ampio servizio del Corriere sui premi agli studenti noi andiamo alla Nazione ripartiamo dalla viabilità da un viadotto che va a rilento e quello di Genna a ferro di cavallo tra gli svincoli ferro di cavallo e Madonna Alta riaperta una corsia l'altra resta chiusa e la superstrada nelle gallerie continua ad andare a passo di Lumaca tempi lenti per forza in quel cantiere lavorano solo pochi operai per i ponti servono intanto 38 milioni lo dice la provincia con l'assessore Borghesi che fa le stime di quello che appunto ci vuole per salvaguardare la sicurezza dei viadotti ma un altro tema viene aperto dalla Nazione mendicanti in città la città è Perugia sanzioni più severe ma la gente è divisa l'accattonaggio molesto punito anche col carcere fenomeno marginale dicono alcuni però c'è anche chi sollecita un netto cambio di passo limitare l'accoglienza rischia di minare la sicurezza dei territori e il parere dell'Anci l'associazione dei comuni dei rebotti che dal sindaco di Narni presidente dell'Anci dice il sistema Sprar ha favorito anche lo sviluppo di professionalità il timore è perdere posti di lavoro ma intanto sul fronte sicurezza ci potrebbe essere una novità per Perugia ovvero i vigili urbani armati di taser il sistema della cosiddetta pistola elettrica che immobilizza colui che si trova davanti chi la usa pistola elettrica al vaglio del sindaco Romizzi è una possibilità possono dotarsi nei comuni con oltre 100 mila abitanti ma la scelta è politica questo per quanto riguarda il fronte sicurezza ancora dalla cronaca coltivava marihuana in Svezia e finisce in manetta l'aeroporto di Perugia bloccato dalla mobile a Sant'Egidio per lui un mandato di cattura europeo investimento e tasse ferme al palo regione 54 milioni per il territorio presentato il documento di economia e finanza a Palazzo Donini e poi festa natalizia in anticipo con la presentazione del calendario del comitato Chianelli in quel di in quel di Trevi un anno di speranza con il Chianelli con il comitato guidato da Franco e Luciana Chianelli doppio freccia rossa mai dire mai Trenitalia si prende cura dei pendolari Fontiveggia aperto un nuovo servizio per i passeggeri regionali il mai dire mai è dell'assessore regionale Chianella vedremo come andrà a finire c'è anche un progetto per prolungare l'attuale servizio che da Perugia a Milano tra l'altro è gettonatissimo fino a Terni intanto arrivano scontri per il mini metrò in vista del Natale e poi sopra al luogo sul ponte pedonale riaprirlo costerà 15 mila euro il soprapasso che è chiuso da mesi in via Settevalli ci inoltriamo nel centro di Perugia Viaggio nei Mestieri la rubrica della Nazione l'ultima sarta del centro dice sono una sopravvissuta parla Valeria Balzini una delle poche sarte per riporazioni abiti su misura rimasta nel centro storico la bottega in via Bontempi tanti clienti anche VIP e poi a proposito invece di eccellenze gastronomiche Valerio Taglio d'Artista ma la sua specialità è il buon prosciutto maestro del coltello è il personaggio raccontato dal quotidiano fiorentino chiudiamo la nostra panoramica su regione e capoluogo con il messaggero che apre da Perugia e da una vicenda che era stata sollevata proprio dalle colonne della testata romana Lampioni caos l'ultima promessa con la telemetria cambia tutto ci sono Lampioni a Perugia spenti di notte accesi di giorno l'assessore calabrese dice finita la sostituzione delle lampade i guasti saranno verificati in tempo reale sono 27 mila i punti lucidi da sostituire anche ieri l'illuminazione era accesa di giorno e problemi anche alle scale mobili si bloccano stop e cambio del motore intanto il sindaco Romizzi con l'assessore Fioroni sono a Parigi e Fioroni attacca Perugia a modello città riconnessa dicono i due che sono presenti al forum sulle smart city organizzato dal quotidiano economico francese la tribune mia figlia sconvolta dai raid dei ladri allarme furti da Settevalli a San Sisto garage assaltati in zona Madonna Alte vedete che anche per questo il caso che abbiamo visto di Val di Chiana di Monte San Savino ovviamente fa rumore in Umbria perché purtroppo quella dei ladri è una realtà quotidiana intanto c'è anche assisi nel calendario 2019 dei carabinieri dedicato alla cultura e poi infiltrazioni bloccata una ditta sospetta è il tema con cui il messaggero ha aperto quest'oggi lotta ai capitali mafiosi nell'economia legale un'interdittiva della prefettura di Caserta ferma i lavori di un'azienda nel Perugino diversi cantieri che hanno subito rallentamenti o progetti non partiti a seguito del provenimento che arriva da Caserta e il prefetto sgaraglia ai console onorari dice massima collaborazione e poi lotta all'AIDS le farmacie dell'Umbria in prima fila quelle dell'AFAS distribuiranno 2.000 profilattici e materiale informativo questo per quanto concerne la cronaca regionale ma noi andiamo a dare un'occhiata alle pagine dei comprensori lo facciamo partendo dal diamo un'occhiata intanto al nostro sito trgmedia.it bypassando ora l'apertura che vedremo nello sport con la lettera del tecnico ormai esonerato del Gubbio Sandriani vediamo la cronaca con un arresto nel Tifernate per maltrattamenti e stalking a Perugia presidente della provincia in visita alla prefettura a Gualdo presentato il programma degli eventi natalizi e poi per la politica il tour del candidato alle primarie regionali del PD Bocci che ha incontrato i vertici di confagricoltura mentre Gubbio e il Natale in vetrina sul settimanale oggi e sul periodico Vanity Fair ovviamente tanti anche i servizi gli approfondimenti i video le trasmissioni i plus che potete ritrovare che fanno parte della nostra programmazione quotidiana e poi in remoto è possibile rivedere sul nostro sito trgmedia.it noi ripartiamo dal lago con il Corriere dell'Umbria in 150 il corso per defibrillatore siamo a Castiglione del Lago solo all'ultimo appuntamento promosso dalla misericordia si sono presentati in 30 c'è un protocollo con il comune si promuove la formazione della popolazione ma si arriva anche alle frazioni tutto il territorio interessato dalle iniziative dell'associazione a Città della Pieve domani l'autopsia sul giovane morto in casa per il quale si sospetta l'overdose mentre con Silhouette sempre a Città della Pieve la foto si trasforma in una scultura mostra collettiva domenica alle 18 con il Corriere ci spostiamo ad Assisi e andiamo a vedere i titoli da Assisi felice di onorare il legame tra la città e il Pontefice parla Massimo Zuboli che ha scritto una preghiera per il Papa pubblicata su una rivista dedicata a Francesco ancora cronaca tenta di pagare i gioielli con la carta di credito rubata un 58 nel denunciato per tentata truffa mentre a Bastia mostra antologica su Faros l'anima dell'auditorium via domani a Sant'Angelo l'esposizione dedicata all'architetto che si era dedicato al recupero della struttura da Todi palestra di Ponterio pronta per maggio ripresi i lavori da oltre un milione di euro dopo lo stop per l'adeguamento del progetto la struttura sarà utilizzata da scuola e società e invece a Marsciano nuovi giochi e fondo in gomma al Parco Ponte indirittura da Livo le opere di riqualificazione dell'area siamo a Città di Castello la cronaca in apertura marito stalker scatte il braccialetto elettronico per mesi ha perseguitato la ex moglie e i suoi parenti senza rispettare i vieti di avvicinamento intanto sulla morte sul lavoro è polemica perché l'asla è stata avvisata il giorno dopo la tragica fine di Mauro Pauselli morto in un incidente all'interno di un'azienda di Calzolaro la famiglia ha deciso di affidarsi ad un legale e chissà che non abbia dei gusti artistici particolari il lupo che è stato avvistato vicino al Museo Burri a Meltina a Città di Castello intanto le farmaceti Fernate e Lions donano due defibrillatori presidi salvavita alla Casa Verde a Palazzo Corsi a San Giacomo questo per la prima delle due pagine dell'Alto Tevere l'altra ci arriva da Sansepolcro ancora un ritorno sulla morte di sulla morte del 37enne Stefano Donnini oggi ci saranno le esecue investito a da una donna di San Giustino nella zona di Sansepolcro mentre ancora cronaca Anziano si sente male mentre a caccia salvato con l'elicottero necessario l'intervento del soccorso alpino tutto questo invece a Umbertide nella zona di Pregio a Cubbio polemica per i disservizi al cimitero non solo segnalazioni di allagamenti continui ma anche per i loculi troppo alti c'è l'impossibilità di arrivare con le scale presenti allora restano senza fiori segate le scale per motivi di sicurezza è diventato impossibile arrivare alle tombe più alte inutili fino ad ora le segnalazioni bisogna aspettare gli operai con il macchinario alza feretri e poi per il Burkina Faso abbiamo visto nei giorni scorsi un servizio nel nostro TG se Monte non si tira mai indietro a Doniciani la frazione ospita la festa di solidarietà promossa dall'associazione l'impegno mentre continua anche l'impegno delle associazioni volontari della sanità per fermare il declassamento del laboratorio analisi di Branca Marolina Vispi dei amici del cuore dice continueremo la nostra azione di sensibilizzazione per questa battaglia ci spostiamo a Gualotadino o meglio nella zona della fascia arrivano gli ultimi soldi della Merloni 1200 ex operai dello stabilimento di Colle riceveranno la trash che mancava dalle ore lavorate nel 2007 e poi a Gualdo la Roccafleo ospiterà il castello di Babbo Natale presentati gli appuntamenti delle feste si spazia dalla strada degli Elfi ai Mercatini fino alle vie dei Presepi col Corriere andiamo a Foligno e andiamo a vedere il battesimo del volo all'aeroporto per 50 studenti della scuola da Vinci grazie a una convenzione con l'Aeroclub un'esperienza speciale per i ragazzi che sognano un futuro da pilota intanto si è conclusa la max esercitazione al centro di protezione civile allestito un ospedale da campo con 150 militari coinvolti nella simulazione di due scenari di soccorso la cronaca automobilista fugge dopo un incidente inchiodato da un video emultato è stato individuato grazie a una telecamera installata su una vettura che transitava in zona mentre c'è gloria per una giovane stilista folignate Micaela Candolfo che presenta le sue creazioni con una sfilata di moda alla seconda edizione di Fashion Week siamo a Spoleto BPS sarà incorporata da Banco Desio avviate le procedure preliminari fusione entro lui ovvia la direzione generale ma il nome della popolare sulle insegne verrà mantenuto anche se fatecelo dire l'assenza ormai di una banca umbra vera e propria si fa sentire in tutta l'economia della nostra regione il fatto che resti un nome sull'insegna non cambia purtroppo le cose l'opera di Leoncillo della SCS intanto venduta per 800 mila euro ne parla anche il Corriere la notizia era stata data ieri da altri quotidiani e la buona notizia è che il centro di olivicoltura non sarà smantellato il sindaco conferma che il ministro Centinai ha bloccato la procedura di dismissione ancora la Spoleto andiamo in ospedale chirurgia robotica sui pazienti obesi primi dieci interventi al San Matteo negli ultimi tre mesi impiantati mini bypass su soggetti che avevano ripreso peso dopo i trattamenti convenzionali questo per quanto riguarda la sanità infine guardiamo già il Capodanno concerto in omaggio a Mogol festa e brindici a San Silvestro in piazza Garibaldi con il poeta che ha firmato il paroliere che ha firmato le canzoni immortali di Lucio Battisti Passerella il comune chiede i danni siamo a Terni dopo il cedimento di un pezzo di legno che ha rischiato di ferire un bimbo pugno duro dell'amministrazione contro la ditta che ha svolto i lavori intanto un prodotto tipico del territorio si apre ai mercati esteri è il pampepato siglata la convenzione tra i comuni di Terni e Narni e l'alberghiero il dolce tipico in vendita tutto l'anno banca rotta fraudolenta otto a giudizio per il caso Meraclon prescritti anche una serie di reati contestati caduta in indagine l'accusa di associazione a delinquere ex proprietario e 5 professionisti a processo per il crack dell'azienda e poi il tour del vescovo piemontese tra questura provincia e prefettura giornata intensa quella di ieri con il presule che continua le sue visite pastorali alle istituzioni cittadine e chiudiamo ancora da Terni esplode il caso dei taxi abusivi audizione in prima commissione consigliare dei tassisti servono più controlli dicono informata anche la guardia di finanza andiamo alla nazione anche qui ripartiamo dal lago con un forum che promuove il turismo presentato il bollino del Trasimeno a Castiglione del Lago ristoratori e albergatori a confronto da Assisi economia del turismo a gonfie vele più matricole didattica di qualità è positivo il bilancio universitario di Palazzo Bernabei mentre a Bastia premio letterario insula romana riconoscimento al professor Guarino grande successo di pubblico siamo a Gubbio a proposito di premi letterali domani scocca l'ora del premio umanistico Nord Agobbio riconoscimento anche a Brunello Cucinelli per una sua pubblicazione la città che si conferma capitale della cultura intanto l'albero di Natale più grande del mondo che tornerà a accendersi proprio tra una settimana venerdì 7 dicembre ha mirato anche a Milano una gigantografia si trova proprio nella zona della stazione centrale e poi sarà un Natale ricco di eventi presentato il cartellone di iniziative a Gualdo Tadino la città di Castello rende infernale la vita della moia il caso dello stalker col braccialetto elettronico apre anche la pagina della nazione pedinamenti minacce danneggiamenti ora è ai domiciliari intanto tutti a fianco di Silvana Benigno la donna coraggiosa che sta lottando contro il cancro ma che è anche testimonial di questa sua battaglia a favore dell'associazione per la ricerca contro i tumori ha un malore mentre sta cacciando anziano soccorso provvidenzialmente con l'elicottero della SASU ovvero del soccorso alpino a dare l'allarme è stato un suo amico e a proposito di salvataggi un defibrillatore in ogni scuola città cardioprotetta il sogno si avvera per città di Castello grazie al Lions Club in campo mentre a Umbertide ambulanti di Forte dei Marmi levata di scudi di Confcommercio che dice dovremmo essere consultati anche se dobbiamo dire che gli stand erano gremiti scappa dopo l'incidente a Foligno individuato tralito dal video di un passante maxi multa di vigile un'automobilista che non era neanche assicurato ed è forse questo il motivo per cui ha provato a darsela a gambe anche a Foligno arriva aspettando il Natale il mercatino mentre la chirurgia dell'obesità mette insieme i due presidi ospedalieri di Foligno e soprattutto Spoleto ospedale a braccetto per un polo d'eccellenza blockchain e criptovaluta un incontro per capirci di più si terrà al multiverso co-working di Foligno domani alle 17 focus sugli scenari tecnologici che interessano il mondo del business a Terni neonato morto il progetto slitta o meglio il processo slitta la mamma va a giudizio abbreviato accolta alla richiesta della difesa sarà decisiva la perizia qui la foto della donna Giorgia Guglielmi mentre uno strano furto in casa di Laura i ladri rovistano tra i suoi libri nuovi elementi sulla morte della 17enne di Orvieto volata a Roma dal settimo piano la famiglia non è convinta che sia stato un suicidio chiudiamo con il messaggero partendo dal braccialetto elettronico che è stato imposto al marito violento Tifernate botte alle ex moglie moleste e maltrattamenti anche dopo la separazione era accusato di stalking per l'unitreditori c'è il nuovo rettore Giovanni Pace mentre ad Assisi la cronaca con una carta di credito rubata tenta truffa in gioielleria preso dalla polizia e infine la guaglia i mercatini del Natale mentre strade della provincia 28 milioni antibuche speriamo che che bastino anche se qualcuno ha già messo le mani avanti non sono abbastanza volano la città il lavoro ecco il drone made in Umbria siamo a Foligno parliamo della Oma Tonti unico nel suo genere in Europa nel mondo ha solo due concorrenti la produzione inizierà dal 2019 negli stabilimenti del gruppo guidato da Umberto Nazareno Tonti Natale a cave al mercatino oltre 40 espositori e poi battesimo dell'aria per 50 giovani a proposito di volo con la cerimonia all'aeroporto Folignate da Spoleto note anni 60 pista di ghiaccio una fiaba per salutare il 2018 gli eventi delle festività domani il comune svele il cartellone in piazza Garibaldi grande omaggio alla musica di Mogol questo per il Natale a Spoleto a Terni tornelli contro i furbetti Palazzo Spada sede del comune blindato gli apparecchi saranno installati anche a corso del popolo e Pier Felici pugno duro dell'assessore Bertocco che dice tuteliamo regole trasparenza e sicurezza intanto per via Alfonsina alberi a Dio tagliate le ultime piante azienda depredata spunta uno striscione per i ladri eccolo quello che vedevamo richiamato in prima pagina qui tutto il rame è già stato che c'era è già stato rubato è la disperazione del titolare di questo capannone a Narni Scalo imprenditori esasperati il caso limite dei capannoni della Sogeco ladri in casa mentre guarda la tv derupata un'anziana a Orvieto Scalo consoliamoci col pampepato giornata nazionale del prodotto tipico ternano il comune di Narni ottiene la data si tratta del 3 dicembre Palazzo Spada lancia gemellaggi culinari con Siene Ferrara prosegue il lavoro per ottenere il marchio IGP del dolce in campo anche gli studenti dell'alberghiero Casagrande e poi un anticipo delle pagine della cultura le nuvole viste dalla conca nasce Meteocentro Italia il meteorologo sotto corona tenuto a battesimo il nuovo gruppo di lavoro a proposito delle pagine della cultura e delle curiosità abbiamo dal messaggero il calendario Chianelli il cuore dei ragazzi presentato a Trevi per vita da club e rota redditori dalla parte dei giovani mentre Love Film Festival Winter con la sorpresa di Pupia Vati passione cinema di scena appunto nelle prossime settimane lasciamo il messaggero con la cultura andiamo al Corriere dell'Umbria perché troviamo Todi in primo piano celebra Beverly Pepper e gli Dei di Comparco mostra eventi per tutto il 2019 per l'artista statunitense legato all'Umbria e poi a Perugia il Winter Love Film Festival Sposa e il Sociale presentata a Perugia all'edizione invernale della rassegna per appassionati di cinematografia come detto ci sarà anche Pupi Avati e infine La Nazione col suo inserto Umbria in prima fila Emanuele Salce Mumbl Mumbl l'autoreunia va in scena al teatro di Sacco mentre esaltiamo il cinema in Umbria parla Daniele Corvi direttore artistico proprio del Love Film Festival che incalza l'istituzione occasione unica da non perdere tre libri scandiscono la speciale edizione invernale tra gli appuntamenti di stasera a Gubbio segnaliamo il concerto di Stefano Manna alla chiesa di San Domenico alle 21 per celebrare non solo l'omaggio all'Umbria al format di Laura Musella ma anche la inaugurazione del restaurato Coro Ligno finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia mentre per le celebrazioni del centenario della fine della Grande Guerra spettacolo a Palazzo Cesaroni nella Sala Brugnoli oggi alle 17.30 con l'Umbria Ensemble ed è tutto per questa prima parte della nostra rassegna pubblicità tra poco lo sport